Ehi amico, ehi amico, ehi amico, ehi amico, lo mettiamo, lo vediamo in ticolo. Ehi amico, ehi amico, ehi amico, ehi amico. Ehi amico, ehi amico, ehi amico, ehi amico. Ehi amico, ehi amico, ehi amico, ehi amico. Ehi amico, ehi amico, ehi amico, ehi amico, ehi amico. Ehi amico, 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 ehi amico. Ehi amico, 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 ehi amico. questo è il momento questo è il momento no eh 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 sì a estero o meno ho già me ne hai fatto a me alla gamberone di alberto questo è il mondo non fai dai mamma si no 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 bravo dai bravo 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 oh i cavalli dai i cavalli i cavalli i cavalli i cavalli lo volevo fare lui ma che tu lo conosci è il mio nome ti ha dato da più come sai il mio nome l'ha detto lui di quella che sei il primo è bevuto cosa hai detto? non ha capito da quando hai iniziato a parlare? non ha capito non ha capito è un città uno uno un po' non mi sto lo stupendo io non c'ho stranita non ho stranita non ho stranita ma tutto apposta ah si la persona stessa Ok, che te volevo regalare una granda se ti hai ripresa a mano. Ah, ma è vero che ho preso a malissimo. Ah, ma è vero che ho preso a malissimo. Ah, è vero che ho preso a malissimo. Come ricci in ebreaiche? Quali nomi essi? Eh... Forzo mio non è... Martino lo chiamo così, perché questo nome è Zambieri, se non vieni a chiamarti a essere come chiamati Giulia. Ah, ok. Hai fatto un buon paragone. Ok, grazie. Buon dear, chiede. Grazie. Ma è me, questa testЯ vale, dai, è veloce. Si! Maher! E niente, scampare! Si! Il di troppo umane dentro? Grazie. 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 Ha trovato, ha detto che era, ha detto che era ottimalia. Beh, poco. il scuotone sta andando così dai pochi è poca poca vado a differenza tra un mingot un pochi e come no e lo ha finito lo ha visto e lo ha visto e lo ha visto no No, non si! Back and bow way! Basch! 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 Quanto è più? Si! Si! Mi ha parlato troppo che ha seccato la colla che ha toccato la colla e non c'è più Stanto! Abbiamo una ragione Guarda questa Non siete fatti il bagno? Sto in Italia Sto in Italia quindi in quanto? Questa è la prega che fa Ci diventi? Cammino, guardo la gente Ci bevi E beve E fumo E fumo E fumo Aspetta! E fumo E fumo E fumo E fumo E fumo Fumo E fumo Che c'è? Molto E fumo E fumo E fumo Alberto sta qua la pizza, è chiestata la cartina, sta qua la pizza A presto Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.